È stata un'esperienza rigenerante e nella teoria U mi è piaciuto ciò che mi porto a casa e molto probabilmente era ciò che stavo cercando ma che non vedevi. Mi sento sereno, con tanta energia, ho voglia di tornare a casa per proseguire nel mio percorso e dare il via al primo passo, lasciare qualcosa di me nella mia vita, nel futuro. Io ho finito il corso di Master Coach Italia a luglio e come spesso accade quando si finiscono dei corsi ti rendi conto che hai sempre un passo in più da dover fare e quindi ho deciso di partecipare.